Buonasera, specchio specchio fra le belle del reame, di sicuro c'è anche lei è modella, attrice, conduttrice radio televisiva, molto brava e molto intelligente, è ticinese d'adozione, penso lo possiamo dire, mi risulta, ma forse l'avete sentito anche in radio al villaggio di Rete3 che sta studiando per la pratica di naturalizzazione svizzera, ma lei però è nata in Spagna ed è spagnola, quindi noi abbiamo celebrato la Spagna e celebriamo la nostra ospite con dei ritmi flamenco, Laura Bariales. Buonasera a tutti, buonasera, grazie di avermi ospitato. Allora, Volvera è un pezzo in realtà forse della tradizione argentina del tango. Sì, è più del tango, è vero. È vero. Però io non è che faccio tanto, diciamo che io sono della Spagna del nord e quindi non sono molto dal flamenco, è più come, non lo so, uno del bergamasco in Italia che balla la tarantella. Insomma, quindi ho sbagliato tutto. No, no, ma è bellissimo, io adoro la cultura spagnola. Il flamenco lo ballavi da ragazzina, comunque nelle feste popolari al nord della Spagna lo si pratica. Sì, 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 no, ma poi siamo folklorici, magari un po' meno del sud perché ovviamente siamo di montagna, io sono della città più fredda della Spagna dove siamo, tipo per dirti, i famosi per la Bresaola, tipo la Peppina del León, che tra l'altro ce l'hanno in tanti ristoranti anche qui in Svizzera, quindi ogni volta dico del León come me. Non solo che a Montserrano c'è altro, ci sono altri insaccati. León che è una città di influenza castigliana, la cultura è quella. Lo spagnolo puro. È lo spagnolo puro. È dove è nata la lingua spagnola, dove è nata la lingua. Esatto. Ma che città era? Come sei cresciuta in quella città? È una città di provincia, quindi dicono sempre che la gente è molto buona, perché diciamo che non aspirano a diventare cose, non lo so, anche professioni. Per dirti, il lavoro che faccio io nessuno lo poteva immaginare, ma neanche io, neanche me stessa, perché è una città dove tutti viviamo, lavoriamo, è molto semplice. Ma allora com'è che ti è venuto questo impulso di buttarti nel mondo dello spettacolo o forse è stata la bellezza che si è manifestata in te, che ti ha un po' spinto ad uscire da questa provincia, dove dici, mi sembra un po' da middle class, workers, lavoratori. Esatto, esatto. Così, la voglia dei riflettori dello spettacolo, un po' come ti hai detto. Non ho mai avuto la voglia. Io penso che sempre sono stata, lo dico sempre, miracolata, ma in realtà non è così, perché anche, tanti mi dicono anche la bravura, perché, non lo so, io non avrei mai immaginato di fare questo mestiere. Tutto è partito da un entierro, un funerale. Ero lì con mio papà e un signore, di Leone, le ha detto, ma sua figlia deve fare la modella, ma è alta, è magra. E mio papà, ma come modella? Cioè, è come se dire, hai rollo, hai rollo. Sì, perché Leone è in quota, tra l'altro. Esatto, è come dire, non so, nessuno pensa. E quindi mio padre ha detto assolutamente no, mia madre assolutamente no. Poi, continuando a tenere io in testa questo signore che aveva detto che io dovevo fare la modella, quando ho finito l'esame prima dell'università, la maturità, io ho detto che non volevo il motorino, mi volevano comprare il motorino, io ho detto no, io voglio fare la modella. Cioè, era un'opportunità per viaggiare. Certo è che non è stato facile. Adesso ti racconto velocemente, ma mia madre ha dovuto chiudere la sua libreria, che comunque aveva una libreria nel centro di Leone, e mio padre è un commercialista e lavorava ore extra per poter pagare le trasferte a mia madre, perché a me me lo pagava l'agenzia, ma poi ovviamente lavorando lo ridavo. Per pagare il sogno della figlia. Il sogno della figlia. I genitori meravigliosi, tra l'altro rinnegando un po' il mondo dei libri, perché si potrebbe pensare forse con un luogo comune che da una parte stanno i libri, dall'altra parte il mondo della moda, ma forse è così. Io quando vedo quelle che no, è laureata, ha fatto la modella, ma è laureata, insomma io dovevo tornare per l'esame, che poi mio padre mi sceglieva economia, io dicevo cavolo c'era educazione fisica, e perché mi ha scelto economia? Perché lui diceva ti aiuto io, ma in realtà era difficile tornare a casa per fare gli esami, e non è tornare a Madrid o a Barcellona che prende un volo, è tornare a Madrid tre ore di treno, è difficile anche logisticamente parlando. Quindi devo dire che non è facile, poi i miei genitori erano quelli che non volevano che glielo facesse, quindi non è come la mamma che ti spinge a fare questo lavoro, ci sono tante. E se ne vedono creando dei grossi problemi, dei conflitti, delle personalità delle ragazze. Esatto, perché io era il mio sogno, ma i miei genitori non volevano, e anzi mi continuavano a dire che io ero una in più e che dovevo tornare a casa. Quindi era un po' di tarpare leale, ma non smettere di... Io lottavo per inseguire il mio sogno, e penso anche per questo, per i sacrifici che hanno fatto i miei genitori, che non li ho mai deluso, sul fatto delle feste. Insomma sappiamo com'è questo mondo della moda, soprattutto della moda, anche dello spettacolo. Ma della moda sei giovane, sei sola, perché tante sono sola. Io avevo mia madre che mi accompagnavo, e infatti lo dico a tutte le mamme che vogliono accompagnare le loro figlie, di assecondarle, perché è molto difficile, è un'età molto critica, perché sei vulnerabile. Tu hai cominciato a viaggiare, a fare la modella Giramondo a 15 anni, praticamente a 16 anni. Eri una ragazzina, dovevi quindi ancora finire la maturità, giravi con i libri negli alberghi, dovevi studiare. Mi facevo amica di quello secchione della scuola che mi passava tutto. Approfittavi un po' della tua scendenza, della tua bellezza, sul secchione, sul nerd con gli occhiali che poi studiavi. No, ma sto scherzando. Però che coraggio tua mamma comunque a buttarsi in questo mondo. Lei che aveva una libreria. Cos'era un centro di ritrovo, questa libreria? Tu che ricordi hai di questa libreria? Sì, tanti ricordi. Perché io tornavo dalla scuola e facevo i compiti, nella trastienda, come si chiama, il posto dietro dove aveva il magazzino. Sì, nella retrobottega. Esatto, io facevo i compiti lì e nella mia testa c'era sempre però l'opportunità di viaggiare. Io volevo andare a viaggiare, a capire. Ed era un'opportunità questo della moda. Però probabilmente girava in quella libreria di sicuro ci sarà stato il Don Quixote. Il Don Quixote della Mancia. Il Don Quixote della Mancia di sicuro, che è un sognatore. Quindi alla fine è diventato famoso anche perché era un sognatore. Ma quindi tua mamma ha fatto questo, è venuta con te in viaggio. Ti proteggeva in quell'ambiente. Perché è un ambiente pericoloso? Ecco, quello che ti dicevo, è proprio pericoloso perché comunque sei giovane, sei in adolescenza pura. Adesso sono adolescenti a 12 anni, lasciamo perdere perché ogni volta che li vedo sto male. Comunque, perché ho due figli, quindi ho paura. Sì, beh, c'è tempo prima che diventino adolescenti. I tuoi figli che hanno 4 è un anno, insomma. Sì, però i social non aiutano. No, certo. E sei un po', non lo so, io se non avessi avuto mia madre che mi accompagnava e mio padre che comunque finanziava queste trasferte, sarebbe stato molto pericoloso perché è normale, ti invitano a una festa, poi sei così. Poi io vedevo le residence delle modelle, i weekend sparivano le modelle. Dove andavano le modelle se noi siamo fuori casa e stai lì? In realtà andavano a Saint-Tropez, nei viaggi, tutto pagato, e dicevo, ma cosa fate? Poi tornavano con i regali, gli occhiali, borse, scarpe. Io dicevo, ma chi ve... Sei innocente, soprattutto di Leone, non di Madrid o di Barcellona. Io vedevo una che si faceva una canna e scappavo e dicevo, si sta drogando. Ero molto naif e mia madre mi teneva naif. Era bello perché lei sta scrivendo un libro che si chiama... Sua mamma. Sì. Che si chiama... Adesso mi viene a piacere. Come si chiama, Laura, questo libro? Va bene. Perché piango? Ma è una bella cosa piangere. Va bene, si chiama La forza di una mamma. Perché comunque... Vai. Perché la mamma ti protegge, quindi lei cosa racconta in questo libro? Il suo percorso... Sono di lacrima facile. Ma va benissimo. Ti avevamo visto anche con delle lacrime quando eri stata intervistata da Marzullo. Da Marzullo, però avevo 22 anni. Adesso ho 40. Ma quindi sei un'emotiva. È bello non perdere l'emotività. Sai che cosa? Che non perdo mai i ricordi. C'è gente che quando arriva... Io non sono arrivata a nessuna parte, anzi. Però quando arrivi a un certo livello ti dimentichi di quello che hai vissuto, dei momenti bassi. Io non mi dimenticherò mai. Quindi mia madre scrive perché lei aveva visto... Uh, dovevo mettere il mascara... Perché c'è lo specchio dappertutto. Aspetta, guarda come... No, comunque... Ti dicevo, e mia madre scrive tutti i retroscena che io non ho visto perché lei mi cercava di... di occultare, come si diceva, di proteggere, delle cose che lei vedeva, che ovviamente una mamma vede, ma la figlia non le vede. Quindi mi teneva in questa bolla felice. Però la realtà è un'altra, non è un mondo dei glamour, è pieno di sacrifici, di... di delusioni. Ma che fisici penso. Tu nuotavi, poi a un certo punto... È vero. Ho smesso di nuotare perché avevo le spalle più grosse, poi ti misuravano. Adesso no, perché vanno di moda le Kardashian, queste sederie. Tutte un po' curvi, le modelle curvi. Ma tu invece hai anche iniziato a fare questo lavoro un po' per emulazione di quella generazione di modelli. A un certo punto c'erano le top model Naomi Campbell oppure Claudia Schiffer, giusto? Che se non sbaglio sono nate nel 1970, quindi era una generazione precedente alla tua. Purtroppo io quando c'erano le ragazze dell'est che erano più bianche, più così, diciamo che nelle sfilate non volevano la donna commerciale. Quando io ho iniziato a lavorare mi dicevano tu sei una bellezza delle anni 80. Mannaggia, ho sbagliato perché tu. ho detto e quindi non mi fate lavorare, ho capito. Era difficile perché tanti ti rispingevano. Sono andata a Miami, anche vabbè. Io andavo tanto in Germania perché la mia bellezza è molto latina e quindi facevo... Era pagante per il mercato. E poi non c'erano gli euro quindi il cambio dei franchi. E tutto era un casino. Alla spesetta si era molto buono. Sud Africa, ovviamente le grandi città. Partita da 900 metri di quota perché Leon è una cittadina che sta in quota, la provincia, catapultata nel mondo. In un mondo, lo abbiamo detto, un po' pieno di pericoli ma in un mondo anche, posso dire, un po' cinico. Perché Laura, voglio confessarti una cosa. Quando ho preparato questo nostro incontro, io sono andato a Wikipedia a digitare... infatti ho detto, in qualsiasi programma che vado mi chiamano e mi chiedono. Tu sai già tutto. Ho i miei informatori. Ho i miei informatori. Comunque, Laura Bariales, Wikipedia, una cosa che è emersa e mi ha fatto un po' pensare, le prime informazioni riguardavano le tue misure, il peso, l'altezza, la circonferenza del seno e tutte queste cose. Come se l'identità di una modella passi e passasse, anche allora, da una misurazione col metro e con la bilancia. Come se si trattasse di un capo di bestiame. Scusami, se sono un po' violento nel risporre questa cosa. Ma è giusto, sei modella. Ti sei mai sentita sminuita in questo? No, non mi sono sentita sminuita perché comunque tu, forse suona male, però è veramente... Io ogni volta dico, ho avuto due figli, vabbè, il mio corpo l'ho sfruttato bene, suona male. Però in realtà tu sei modella e tu stai lavorando con il tuo corpo. Anche quando fai l'attrice. Quando fai l'attrice è più difficile perché tu stai interpretando un altro ruolo con il tuo corpo. E io ho fatto una fatica per baciarmi e per fare... Io firmavo già subito che non dovevo fare scene di sesso. Perché io non riesco, non riesco e anche il nudo facevo fatica. Cioè nel senso, è vero che si vede non si vede, ma non ero... devi mi desimarti, mi desimarti. E nel personaggio, basta. Io quando facevo squadra mobile su Canale 5... Interpretavi il ruolo di una criminale, una narcotrafficante colombiana, sudamericana. è stata dura perché anche avevo con Daniele Liotti delle scene difficili. È difficile, devi uscire dal tuo corpo. Mentre la modella devi prestare il tuo corpo per fare indossare. È normale, sei un manichino. È così. Tu sei più bella adesso o quando avevi 20 anni? Perché un mio amico, un mio amico, Ugo Brusaporco, che è un critico cinematografico, una volta gli hanno chiesto se era bella una donna di 80 anni. Io gli ho detto è più bella di una di 20 anni perché ha 4 volte 20 anni. Ho trovato una risposta simpatica. Tu come vivi comunque il passare del tempo? E in questo tempo ci metto anche la maternità che inevitabilmente comunque sfregia un po' a un corpo perfetto di una donna interna. Tu hai avuto anche dei problemi di salute tra l'altro dopo la gestazione. No, io devo dire che è difficile perché io vedo anche le ragazze di 20 anni che non si accettano oggi come oggi e sono già rifatte o ritoccate e tutto. Io penso che bisogna... Non si trovano più le signore con l'armonia, con la vecchia... No, la vecchiaia armoniosa. Le vedo che non c'entra niente la loro età con le loro visi. Però va bene, ognuno fa quello che vuole con il suo corpo e con il suo viso. Però io mi vedo più bella adesso. Sai perché? Perché sono più consapevole del mio corpo anche. Non lo so, è vero che la maternità mi è cambiata, ho avuto mille problemi, ancora adesso ho la diastasi che non so se sapete cosa è i uomini. Non lo so, ma... Insomma, però è difficile quando hai vissuto di un corpo apparentemente perfetto e poi hai problemi delle vene, delle cose, quello, vabbè, di tutto di più. Però ne è valsa la pena. e poi a 40 anni è bello dire l'età perché continuiamo a invecchiare. È vero che dici magari non sei più come a 20 anni, ma chi se ne frega? Ma già... Dove sono le nonne con la pancia? Non c'è più. non lo so, mia nonna ha la pancia così perché una volta partorivano era diverso. Certo. Ma quando sei al Parco Ciani con Melania e Romilio, io so tutto, vabbè, ma tu giri al Parco Ciani o sul Lungolago col passeggino, in fondo, un po' ti manca quel mondo dei riflettori, ti manca la libertà di non essere madre. Guarda, hai fatto bene a fare questa domanda perché la mia vita, ti ripeto, io tutto capita, non ho mai cercato né di fare televisione, né di fare cinema, né di fare... La mamma è stata sempre il mio sogno. Tutti mi dicevano, anche all'Arena di Verona, mi hanno fatto un'intervista e mi hanno detto qual è il tuo sogno? Una volta mi dicevano presentare Zeli quando l'ha incontrata e stava ritirandosi. Io dicevo no, fare la mamma e tutti dicevano ma che carina, una cosa così semplice. In realtà no, devi trovare la persona giusta che sia un buon padre, che sia... È difficile e poi rimanere incinti e poi tante cose, tante coppie stanno cercando anche... È difficile. Perché insomma, comunque tu veramente professionalmente ne hai fatte tantissimo, dagli esordi con Carlo Conti per i raccomandati, poi hai fatto trasmissioni di moda, poi hai fatto con Alain Franz la vicina di casa, poi hai fatto la commedia leggera, no, il film maschi contro femmine con Bisio, la cortellisi, storia di corna... Ma no, insomma, sei un personaggio pubblico che ha fatto tante cose, è stata all'Arena di Verona a presentare Bocelli, hai fatto... Tutto sai. Hai fatto tutto, hai fatto tantissimo, le fiction, l'Isola dei Famosi... Basta, basta. Vai, basta. No, l'Isola dei Famosi non come concorrente. No, però tu hai fatto l'opinionista per tre giorni. per tre edizioni. Ho sempre detto che non vorrei fare mai un reality, magari un giorno direi guarda, mi hai detto mai... L'opinionista, l'Isola dei Famosi è fatto l'opinionista. non mi piacciono, mi piace magari guardarli, pensa te, perché mi svago da tutto, però come concorrente non mi piace. La TV ormai è fatta di reality e non mi piace perché è tutto un cercare rogna, litigate, cose, non mi piace. Sai Laura, a me ha sorpreso che comunque, una cosa che era emersa anche sui giornali, che dopo tre edizioni tu hai mandato. Hai lasciato un posto che vorrebbero tutti per esempio nel mondo della televisione italiana, l'opinionista all'Isola dei Famosi. Hai lasciato un mandato a Nicola Savino un sms e cosa hai scritto? No, io gli ho detto che non volevo perché non mi facevano parlare e a me la donna muta non mi piace purtroppo parlo tanto. Poverino, lui ha detto non mi fa chiedere le cose. No, ma fai bene, ma dimmi perché è una cosa che ti preme comunque. No, mi piace, non mi piace la donna muta. e lì non hai mollato e hai detto no, io non cedo anche se sei partita facendo la balletta. La modella, ma è quella la modella, ma io in tv ho qualcosa da esprimere, da dire, da comunicare e cavolo, stavo ore e ore a vedere l'Isola dei Famosi poi in tutta la puntata non mi chiedevano una cosa, allora no, ho detto scusa, ma con tutto il rispetto, ripeto, a me mi stavano pagando anche bene, perché dovrei lasciare la poltrona come fanno i politici? No, dovrei stare lì muta e in verità no. A me infatti viene su questo tuo episodio mi viene una domanda da farti, forse un po' cinica, però tu che hai costruito la tua carriera sulla bellezza, sei mai stata indotta magari proprio dai luoghi comuni a dover dimostrare la tua intelligenza. Capisci? Tu dici, ero lì all'Isola dei Famosi ma non mi facevano parlare, io non voglio passare solo per quella bella, ma il luogo comune dice, sai che a volte intelligenza e bellezza non vanno d'accordo. se anche la parte buona è che quando io facevo la Serie A o il calcio anche alla Juventus, quando ho lasciato la Rai per andare in Juventus, infatti porti i colori della Juventus, guarda, io sono l'interista, ma la vedo male, però scusami. Anche tu dell'Inter, guarda qua, derby, derby, derby. No, comunque sia, andare nel mondo del calcio non è facile, che sei comunque una ragazza carina, apparecente, quello che sia, ma non sono una che mi presento da fan fatal con le blu, capisci? No, sono una amichevole, una che divento un maschio in più, non è un problema. E quello è il modo di farmi rispettare, perché io non sono una giornalista e non lo voglio fare quel ruolo. Io sono una persona che mi piace quello che faccio, voglio fare le interviste molto tranquillamente in amicizia, infatti i giocatori volevano tante volte perché gli altri chiedevano le cose tecniche e io volevo fare allora cosa hai fatto? Aspetti più umani, empatici. A me piace, non so, animare, animatrice di villaggio, quello. Quella cosa lì. Fiorello era partito così, per esempio, quindi diventi un personaggio pubblico nella tua carriera e il personaggio pubblico diventa un personaggio da copertina, molto paparazzato, però tu magari non vuoi, però i paparazzi stanno in cimo un albero con l'obiettivo lungo, sai, un metro a riprendere. Ci sono dei titoli da Novella 2000 che io me li ricordo, tipo Coccole Hotte per la bella, in piscina per la bella Laura con il suo fidanzato ticinese. quanto tieni alla tua privacy? Tantissimo, fatto sta che tanti, guarda, l'altro giorno un signore in una caffetteria qua di Ticino, nel Lugano, mi ha detto mi piace la tua carriera perché sei una delle poche pulite. E dicevo, sei pulita anche di tasca però, perché quelle che fanno i reality a far vedere il sedere e poi incassano con le serate le discoteche e le cose e sono scelte, c'è la scelta dritta, c'è la scelta un po' così, io ho fatto la gavetta come nella vecchia usanza ed è difficile perché è più travagliato, però il signore mi ha detto una cosa bellissima, ti riconosce la gente o per il calcio o per la fiction o per qualsiasi cosa, o per gli eventi, nessuno sa della tua vita privata, a differenza di tutti gli altri che sai vita miracoli di tutti, però io devo anche ringraziare in quello il vostro compatriota, se dice mio marito, perché lui è molto riservato, a differenza di tanti uomini che vogliono un po' mostrarti e apparire, e lui, anzi, sono io quella che parla, a volte mi dice non parlare di me, non parlare di me, e io dico magari è una doppia vita, avrà un'altra famiglia, poverino, ne stiamo parlando, no, devo dire che ecco, anche nella foto del mio matrimonio, lui lo volevo girato perché non vuole non vuole apparire, non vuole apparire, però con un personaggio pubblico come te, inevitabilmente si rischia di dover apparire, lui è un imprenditore attivo nel mondo dei vini, è vero che ha venduto la bottiglia di vino più cara al mondo? Sì, sì, no, sta andando molto molto bene, prezzo, quindi questa bottiglia, era per un milione di dollari per una bottiglia di vino, era uscito sul Corriere del Ticino, poi è uscito la notizia ovunque, ma chi se l'è comprata questa bottiglia? non posso dire perché i clienti sono privati, i miei clienti sono privati, non sono ristoranti, era privato questa volta. Io stavo parlando male dei paparazzi, sto facendo una domanda da Gossip, Novella 2000, dimmi tutto, dimmi, parrucchiere mio, dimmi, parrucchiere, sì, avrei bisogno, senti, Laura, ma dove hai conosciuto tuo marito? a quale punto si è sposata Lugano nel 2017? a Milano ci siamo conosciuti e ti devo dire la verità, quando sono venuta la prima volta qua, mi sedevo sul lago, sul lago no, nel lago, nel sul, nel lago su, no, su, sull'arrivo, a bordo lago, su una delle panchine rosse, devo fare l'esame della naturalizzazione, per favore, non mi far fare brutte figure, sul che di Lugano? sul che di Lugano, mi sedevo lì, c'era la signora, dicevo, dà una pioggia, eh sì, invece c'è il sole, continuavo a fare così, e io arrivavo a casa che ero piena di energia, non avevo niente da fare, allora c'era Fabio che mi diceva, tutto bene amore? Dico, no, non mi piace qua, è noioso, voglio uscire, voglio andare, voglio andare a Milano, e scappavo a Milano sempre, ero piena, mi chiama il pitbull lui, perché sono, però adesso con figli, non lo cambierei per niente questa città, è sicura, mentre Milano, c'è di tutto ultimamente, però ovviamente all'inizio, fatto sta che io ero venuta con il curriculum, sotto il braccio alla RSI, perché ho detto, cerco lavoro, cerco un gruppo, ma non lavoro, perché devo assolutamente fare quello che so fare, no, io voglio un gruppo di lavoro, di amici, di colleghi, perché ho lavorato da quando avevo 16 anni, e io non avevo amici, e volevo avere la mia vita, non condividere la vita di mio marito, non essere, ho capito, e quindi, io sono sempre stata indipendente, era strano, e penso che adesso con figli, ti assicuro, che non c'è tempo per niente, e sono felicissima di annoiarmi, non mi annoio mai, ma sono felicissima anche se mi annoio. ti piace la musica, so che ti piace un brano, sentiamo. vediamo, vediamo, mi hai fatto già piangere, a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione, per arrivare fino in fondo, ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro, a te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila, con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto, e mi hai portato con te, a te io canto una canzone, perché non ho altro, niente di meglio da offrirti, di tutto quello che ho, prendi il mio tempo e la magia, che con un solo salto, ci fa volare dentro all'aria, come bollicine, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. Laura, perché ti piace questa canzone, molto particolare? Siete cattivi, cattivi, i fazzoletti sono finiti, non ce l'ho più. No, no, ce l'ho ancora, è abbastanza umido, no? No, comunque, è una canzone bellissima, da dedicare a un familiare, per me la famiglia è troppo importante, sia un figlio, sia un genitore, un fratello, una sorella, insomma, penso che la famiglia, se è una brava famiglia, ovviamente c'è di tutto, però, penso che c'è sempre, tante volte, quando ti chiama la mamma, non ho tempo, perché c'è sempre, in realtà gli amici non lo sanno, vanno e vengono, come il treno che scendono, papà e mamma stanno ancora lì, in Spagna, ma sono quasi sempre qua, perché mi aiutano con i bambini, se no non potrei essere qui. Hai conosciuto Giovannotti, o no? Nella tua carriera hai conosciuto tanti grandi personaggi, pieni di talento, che carisma hanno le persone che hanno talento? Aspetta che mi scende, ma perché? Mi spiace, Laura non lo sapevo. Ma dai, mi hanno detto, in Ticino non piangi, perché in Ticino sono freddi, guarda qua. No, scherzo. No, allora ti stavo dicendo. I personaggi appunto di peso, questi artisti li hai conosciuti appunto negli studi televisivi, anche fuori. Lui perché è venuto ospite al Venice Music Awards che ho presentato con Amadeus, io con Amadeus ho lavorato sei anni di seguito, è una persona fantastica e con un sacco di esperienza, questo è bello, perché comunque impari tanto di una persona che ha già lavorato radio, tv. e abbiamo presentato questo festival a Venezia, molto bello, infatti era bellissimo, perché io il giorno prima ero nella festa del paese, del paesino di Leone, no di Leone Leone, di un paesino. Della provincia, della provincia, della provincia. i signori che ballavano così e io gli dicevo a mio padre pensare che domani sono l'auditorio di Venezia a presentare, che cambi che ho di vita. E lui mi diceva ma questo è il bello, perché quello è il bello, perché tu comunque, è normale che se tu vivi sempre a mille, poi magari arriva la discesa della depressione, come tanti del nostro... è difficile tenere il ruolo di ragazza solare, estroversa, di piacere a tutti, di dover andare in scena, the show must go on, è un detto che è una lezione, però è complicato ogni tanto sostenere questa imposizione. Per me non è che non me lo impongo. Tanti che mi conoscono mi dicono che è bello, sei uguale in tv che nella vita, perché tanti dicono che cambiano. Io penso, c'è da dire che io non ho mai sofferto nella vita, mi ritengo fortunata, ti ripeto. Però nel senso, quello che io ti dico, che il mio sorriso è pulito, quindi non è che io voglio essere sempre solare, no, a volte anche delle giornate un po' così, però io sono fortunata, quindi devo sorridere alla vita, basta. Come persona e professionista, attrice, attiva anche nel cinema, nel mondo dello spettacolo, hai interpretato spesso delle commedie e delle commedie leggere e in ruoli drammatici sono mai interessati? Allora, io ho fatto dizione, purtroppo, perché... Dizione? Dizione, si vede anche qua. Cosa hai fatto? No, no, è giusto, è giusto. Hai buttato i soldi, lascia stare. No, purtroppo sì, perché non si sente, ho buttato i soldi, veramente. Comunque, ero stufa dei ruoli che mi davano sempre d'argentina, cubana, colombiana, mai spagnola, però vabbè. E non riuscivo, una volta dovevo fare un ruolo drammatico ma dovevo essere di Bormio. Va bene tutto, ma mi devono doppiare. Valtellina. Mi devono doppiare, cioè nel senso, non riesco a fare certi accenti, anche se riesco a fare il calabrese, il bergamasco, il romagnolo. è l'accento che mi fanno. Fanno così, quello che li manca l'aria. Il manca l'aria. Sono tanti calabresi amici che salutiamo. Ah, certo, qua poi tra l'altro tanti italiani. Sì, sì, sì. E quindi, insomma, quel ruolo era un po' complicato. Laura, purtroppo, siamo arrivati alla conclusione. Adesso che stavo scaldandomi. Sì, no, ma sai cos'è? Nel format di questo programma allo specchio noi di solito offriamo biscotti. No, non te lo consiglio, infatti perché sono qui da un paio di settimane. Però contengono un messaggio che è freschissimo e chissà qual è. Noi non sappiamo qual è. Vuoi provare? Me lo prendi tu? No, ma prendi tu. Vedi-melo tu, fammi il piacere. Eh, perché... Tu devi fare la naturalizzazione. Non è vero. È perché le domani. La naturalizzazione è complicata, non è proprio semplicissima. Eh, guarda, mamma mia, io sono in ansia con questo. A ver? Allora. Che dice? Un'esperienza nuova diverrà presto un ricordo prezioso. Mira. Può essere. Mira. Mi è andata. Eh? Ficcate. Grazie mille. Bene. Laura, grazie veramente. Grazie, grazie a voi. Allora, fra un po' avrai il passaporto svizzero. Sì. Ah, devo dire una cosa. Sì. Grazie a te che hai chiamato in radio per avermi ospite stasera. È stato un invito direttissimo. Per avermi dato l'opportunità. Grazie, grazie Laura. Grazie a tutti. Grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Seguiremo le performance degli esami di naturalizzazione di Laura Bariales, ovviamente, e vedremo, sì, dai. Passaporto arriverà. Se sono fiori. Se sono fiori fioriranno. Grazie, ci rivediamo la settimana prossima. Buona serata. Lo specchio, Kunna. Tamborini Vini e la sua vinoteca con un ampio assortimento di prodotti per ogni gusto. Tamborini Vini. La Mune.